3, 2, 1, PAP! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale! Quando è il suo figlio? Ma c'è il suo figlio? Mi nascosta lì dietro! Ma quanto è grossa la tua scatola? Ah, tantissimo! E' la villa di Playmobil! E' la villa di Playmobil! Mamma! Apri 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 apri! Abbiamo da montarla tutta! Guardate ragazzi! Questa è la casa! Questa è la cucina! Questo è il frigorifero! Questo è il bagno con le piastrelle! Questa è la cameretta dei bimbi! C'è il tavolino che questo sta qui dentro con le panche! Poi ci sono i letti! Quello dei bimbi e quello dei babb! Poi la doccia! Il base con il lavandino! Tutti i prodotti spazzole! Poi qui c'è il tavolino che sta fuori! La panca che sta fuori! La seggela che sta fuori! E poi quattro bistecche e otto! Aspetta! Quanto quattro bistecche? Uno, due, tre, quattro! Sì! E poi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! E otto bistecche! E c'è il barbecue! Sì! Poi due biciclette! Una piccola, una grande! Una panca! Cazzo! Apri apri! Apri apri! Ce la farà Sofia ad aprire? Vincerà Sofia la scatola! Sofia vince! Bravissima! Ecco qua! E adesso apri! Oh mamma mia! Quante cose da montare! Aiuto! È quasi vuota! Eh certo! La scatola sì! Ma è tutto sul tavolino adesso! Fatto! Ti vedete come tutto sta bene! Le lingue di fuori! Ora ci spostiamo un attimino e facciamo a costruire! La mamma, il babbo! Pititim! 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 E Pititam! Allora! La vostra casa verrà costruita dall'impresa Edile Sofì e mamma! È questa! Forse sì! Sofì! Le possiamo aiutare? Proviamo a fare una magia! 3 2 1 POP! Ci spostiamo per terra! Iniziamo con la barre a 10 soli! Lo sapete che questa è una spatola e è morbida! È una spatola facile vedere! È morbida! Ci fidiamo! Cosa ci va qua sotto? Allora questo! Ci va il tavolo d'esterno! Eccolo! Perfetto! Vai! Fatto! Ecco qua! E poi ci mettiamo anche il barbecue fuori? Sì! Ragazzi abbiamo messo il barbecue! Ma scusa! Se c'è il barbecue chi lo cucina? Il fantasma! Dopo ci mettiamo anche i personaggi! Giriamo! Dobbiamo fare l'arretamento della casa! Sì! Allora! Adesso è tutta vuota! Vedete? Sì! Da dove partiamo Sofì? Dal piano di sopra! Dal piano di sopra! Allora ci servono questi con questi per fare i letti! E poi le forbici! E poi le forbici per il sottetto! Tieni! Il lettino numero 4! I libri qui! Un po' dei genitori e un po' dei bambini! E la lucetta dei bambini! Ah sì! Camera dei bambini! Allora! Al piano di sotto cosa ci serve? Allora! Nel bagno ci dobbiamo mettere la vasca! Che l'ho già montata! Guarda! Faccila vedere bene! Che bello! E poi lo dobbiamo mettere! La vasca d'angolo! La vasca d'angolo! Qualcosa ci serve? Il lavandino forse! Fatto con il water! E due spazzolini! Lo sai! Guarda! Io sono dispettosa! Apro il water! No! Non si buttano i spazzolini nel water! Aspettosa Sofì! Dai! Senti là! Sono uscite da sotto! Pavolino! Seggiole! Quali sono le seggiole Sofì? Queste rosse! Quelle rosse! Ah ecco le seggiole rosse! Guardate! Guardate che strane! Tutte arrotondate! Allora! Abbiamo trovato che cos'è quello! Si! E' la seggiole! Vai! Attaccaci l'adesivo! E poi lo mettiamo in bagno! Guarda com'è lucido! Mettilo dritto eh! Guarda com'è lucido! L'ho mai attaccato! Guarda! Ve lo faccio vedere qui! Vedi? C'è lo speckio e sotto la mensola! Ok! Ora l'abbiamo tutta accessoriata! Che abbiamo fatto? Accessoriata! Bravissima! Allora! Vediamo cosa c'è qua in veranda! Allora! C'era il babbo che grigliava la bistecca con i buster di all'ombra! Lei è qui! E il maschietto? E il maschietto è qua su! E la mamma! E la mamma sta dicendo! Scendi! E lui è qui! Eh! Cosa ci faceva lui? Scendi! Senti! Ce la fai vedere anche dall'altra parte? Sì! Vai! Gira! Ok! Questo è il retro! Qui c'è la cuscina con la padella e dentro ci sono le uova! Sì! Ma quando sono pronte! Tiri 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 tiri! Le ho staccate male quindi faccio finta che... Si mettono al piatto ma le sono pronte! Sì! Dai! Poi! Qui c'è il lavandino e c'è una pentola dentro! Ah! C'è da lavarla! Piselli e carote! Bicchiere, bicchiere, piatti, bicchiere, 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 bicchiere... Ah! Eh! Chi c'è la mia maschietto? La mamma! La mamma fa il bagno! Sì! Poi lui va a togliare Babbo! Eh! Giocano! Sì! Alla lotta! E lei invece li guarda! E qui ci sono le Brum Brum! Quelle sono i cuori! Che bello! Ci si possono fare un sacco di storie eh! Sì! Allora Sofì! E? Questa casa! Sì mi piace! Bibli Mobile! Sì! Ti piace? Sì! Sai che cosa facciamo la prossima volta? Solo che me l'hai messa in la buccia più grande! La miscina più grande lo so! Me l'hai messa in la buccia! Mamma mia dove la mettiamo così! Sai cosa facciamo la prossima volta Sofì? Prendiamo anche la piscina da nonno e nonna! E la mettiamo alla villa! La davanti! Così fanno un party in piscina! Sì! Ragazzi! Spero tanto che questo video vi sia piaciuto! Mettetevi like! Iscrivetevi al canale! E attivate la campanella! Per non perdervi nessun video! Iscrivetevi! E al prossimo video! Ciao! Ciao!